Amici del Caisocer, benvenuti al primo appuntamento stagionale con la massima serie del calcio a 11. Si affrontano nella sfida valevole per la seconda giornata le neopromosse Ponte Nurese e Real Suzzano. I padroni di casa in maglia bianca si schierano con Baldini, Boeri, Brigati, Castello, Cattivelli, Crippa, dall'ospedale Ferrari, Giandini, Guidotti, Marchetti, Montanari, Nepi, Sterpu, Alessandro Tagliaferri e Claudio Tagliaferri. Gli ospiti in maglia gialla guidati da Mr. Balordi si schierano con Alletti, Auderi, Bertuzzi, Bigatti, Bricchi, Campominosi, Cavanna, Conti, Debe, Mazzum, Maini, Pagani, Ricifari, Sebastiani, Taverna e Ovezzi. Palla filtrante di Sebastiani per Alletti che entra in aria dalla destra, prova il tiro, tiro sgangherato, palla fuori. Sulla fascia ancora Sebastiani, pallone per Ricifari che si libera al tiro, pallone di poco a lato dalla destra di Montanari. Ancora avanti Real Suzzano, Ricifari allarga sulla destra per Alletti, pallone di ritorno per Ricifari, di prima intenzione, pallone a lato di un soffio, sfiora il vantaggio, il Real Suzzano. Corner per la Ponte Nurese, pallone in mezzo, colpo di testa e pallone a lato. Attacca ancora Real Suzzano, il cross di Debe dalla destra, pallone per Ricifari, tiro al volo e la grande parata di Montanari. Che salve il risultato. Si spinge ancora in avanti Real Suzzano, pallone sulla sinistra per la corsa di Pagani che arriva sul fondo, pallone in mezzo, serie di batti e ribatti. Il pallone rimane lì, il tiro, è la grande parata di Montanari. Punizione dalla media distanza per il Real Suzzano, il tiro di Bigatti, pallone debole e Montanari para facile. Prova ancora il Real Suzzano a trovare la via del gol. Attenzione, il tiro da fuori, pallone abbondantemente alto sopra la traversa. Prova a farsi vedere avanti la Ponte Nurese, pallone spiavente in mezzo, allontana la difesa, il tiro da fuori, pallone a lato. Scende sulla fascia Ricifari, converge verso il centro, si libera per il tiro, pallone debole e centrale, para Montanari facile. L'arbitro fischia la fine dell'incontro, 0-0 tra Real Suzzano e Ponte Nurese.